Sì, signori, benvenuti a bordo. Attenzione. In base alle disposizioni ministeriali in vigore, vi ricordiamo di usare sempre e correttamente la mascherina su naso e bocca. Rispettate sempre la distanza interpersonale e le indicazioni sui limiti di capienza dei treni, sia per i posti a sedere che per i viaggi in piedi. Per ogni informazione vai su trenot.it o visita la nostra auto. Buon viaggio. Grazie a tutti.